Siamo venuti in questo posto, babà, aspetta, il cambio, il cavù, bellissimo come posto, c'erano solo escort, c'erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato tantissimo, tanto che... Sì, che ti ha esaltato Franco, scusa. La presenza dei poveri? Che schifo. La cosa più bella è stato che ieri, nello stesso orario, mi hanno regato il mio Porsche. Ah, questa cosa racconta la teglia? Ragazzi, voi non perdete capire. Fa veramente schifo questa cosa. Io sono... I poveri dovrebbero bruciare l'inferno. Non ha limiti. Allora, ragazzi, se voi siete gelosi... Secondo te l'ha fatto un ricco o un povero? Ma no, un comunista bici con la bici di merda di Torino, che poi Torino è una città di merda. Guardatemi, io non verrò e non vivrò mai a Torino. Io non è che vivo, io in questo momento sto soggiornando, perché Torino è la città più di merda del mondo. Cioè, è veramente una città povera a istrattori e notri cari. Cioè, è veramente il concetto. E lo dico anche contro i miei interessi. Perché i miei interessi sono quelli del vino. È veramente imbarazzante. Se volete venire a mangiare male e bere male, venite a Torino. Ma dai, è imbarazzante. Ma cosa fate? Ma svegliatevi. Fate i 70 chilometri in più. Siete a Milano, già nella cintura. Spendete 4 euro in più al bicchiere e vivete meglio. Svegliatevi. STPT, sintornizzati per favore.